Torna l'appuntamento con i venerdì dell'universo, questa settimana si parla di economia e spazio, che cosa succederà esattamente? Dunque il 23 febbraio avremo proprio il secondo appuntamento dedicato allo spazio e effettivamente come dicevi lo tratteremo da una prospettiva nuova che ci permetterà di mettere in luce degli aspetti di grande interesse ma anche di attualità. Sarà il nostro ospite Simonetta Di Pippo che dopo la laurea in astrofisica e fisica dello spazio alla Sapienza di Roma ha ricoperto varie incariche a livello internazionale ad esempio è stata la direttrice del programma di voli spaziali umani presso l'Agenzia Spaziale Europea oltre che la direttrice dell'Ufficio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per quanto riguarda gli affari dello spazio extratmosferico. Inoltre adesso è docente presso Bocconi. Il titolo della serata è appunto Space Economy, quindi il futuro è dietro l'angolo e grazie a Simonetta Di Pippo scopriremo sia il fatto che siamo già strettamente legati nel quotidiano allo spazio ma capiremo anche come al di fuori dell'atmosfera ci aspettano possibilità di innovazione e sviluppo che possono portare diciamo al futuro dei prossimi decenni senza però dimenticare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile previsti dall'agenda dell'ONU. Ecco allora ricordiamo dunque l'appuntamento quando e dove? L'appuntamento sempre in Sala Estense alle 21 venerdì 23 febbraio l'ingresso è gratuito fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per coloro che non possono venire con noi in Sala Estense è possibile seguire l'intervento tramite la diretta streaming che sarà accessibile dal canale YouTube dei Venerdì dell'Universo.